Rimandata di un anno, la festa dei fuienti della Madonna dell'Arco, multe da 2.500 euro per le associazioni che non rispettano il divieto. E' il messaggio che circola sui social e nelle chat di Aversa, comune della provincia di Caserta. Ma si tratta di una fake news che ha scatenato la rabbia del sindaco del comune casertano, Alfonso Golia, che ora minaccia querele. Sulla vicenda non fa sconti e scrive un lungo post su Facebook. Da qualche ora, scrive Primo Cittadino, sta girando questa comunicazione palesemente falsa sui mezzi di comunicazione. Ho dato mandato ai legali dell'ente di esporre giusta querela nei confronti di ignoti. Prendo atto che c'è qualche imbecille che non avendo nulla da fare prova a destabilizzare l'organizzazione delle associazioni, le quali hanno operato in sinergia con l'amministrazione per il corretto svolgimento dei festeggiamenti nel pieno rispetto delle normative. Poi conclude, il sindaco non ha vietato i festeggiamenti, anzi promuove le tradizioni e partecipa sempre con massima gioia. Il sindaco ha fatto solo il suo dovere chiedendo a tutte le associazioni di rispettare le normative vigenti e di non sparare fuochi d'artificio per due ordini di motivi. Il primo ambientale e il secondo perché le nostre piazze e le nostre strade non consentono di farlo in sicurezza.